buongiorno amiche buongiorno amici come state dove siete cosa fate quanto freddo fa non vi posso dire quanto caldo va fa freddo becco credo un po da tutte le parti in emilia mi hanno detto che ha nevecato tantissimo credo anche lombardia e su a lugano con centra lugano ci sta mio fratello ci sta un mio fratello che compirà 50 anni ma io me lo ricordo ancora piccolo piccolo quando dormiva in camera mia insieme alla sua gemella tutti e due in camera mia che stanza la nostra la più follata devo dire che abbiamo abitato in una casa buffa carina molto bella 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 antica particolare la casa rossa dove stai tu al palazzo rosso stavamo nel palazzo rosso bella 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 tante camere sembrava enorme con la casa da fuori ma chissà quante ma erano camere piccoline perché i muri erano veramente enormi di sasso c'era anche la guardiola del soldato eh con le feritoie i portoni alti c'erano due cipressi meravigliosi che uno è stato abbattuto e l'altro è stato fulminato ci picchiavano di quei temporali in quella valle che di cosa sta parlando della val di vara ma no arriviamo subito a noi qua che mi devo da scaldare mentre parlo di queste cose mi scaldo un po perché guardo della bella lana e un po perché mi piace l'argomento che sarà poi tra l'altro l'argomento del prossimo nick caffè anzi ne faremo due su questo argomento a raffica uno qua in zona e poi uno ah 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 poi ve lo dirò in viterbo e tra l'altro argomenti che ripeterò nelle varie location che conquisteremo chissà perché mi è venuta questa cosa della conquistare che vivremo che conosceremo che condivideremo un po di chi un po di lì un po di là un po su un po su oh sono despesa eh stamattina molto despesa sono che frio che fa sono freddissimo questa mattina ho fatto colazione a casa della giovannina ah no è la prima volta passavamo di lì con la minù siamo uscite presto detto prima che ricomincia a diluviare che era nerissimo e eravamo un po sonnati a tutte e due perché lo resta dalle quattro ha fatto giorno ha voluto mangiare tre volte cioè ho dovuto gli ho dovuto rabboccare il ciotolo dei crocchi perché ciotolo dei crocchi e ciotolo dell'uno ciotolo dei crocchi tre volte tre volte la notte era buio alle quattro per me è notte non posso dire quattro del mattino con quattro di notte fa freddo c'è freddo no casa si stava bene però quando si esce dal letto caldo è venuto a rompere le scatole poi la terza volta quindi dalle quattro alle sei tre volte mi ha svegliata perché lui si avverte che c'è un po di pavimento diciamo il fondo del ciotolo per lui non ce n'è più di roba da mangiare la sposta tutta la fa schizzare fuori ha un bordellone di gatto che mamma mia e poi alle sei e alle sei l'ho sbattuto fuori anche perché voleva uscire a un certo punto ha detto vabbè stato allo sto mi sento usciamo certo me l'ho sbattuto fuori ha la sua cuoccia ha la sua cuoccia chiusa ma aveva piovuto questa notte comunque ieri ha fatto non ha fatto acquazzoni però ha scherzato spesso e volentieri con la pioggia ieri oggi è di minaccia sto guardando verso l'apennino umbro laziale tanta neve si vede tanta neve però non sulle colline montose appena di fronte a noi insomma io sono rivolta signori sì ma anche verso l'umbria l'umbria quadri in pettaia il tevere ci separa io sono felice di stare così che so che c'ho il tevere là mi sento a casa ma tu sei di spezza io non lo so più di dove sono a luglio saranno 25 anni di vita lombarda di vita lombarda vera proprio costante quotidiana credo che siano stati 5 4 5 anni manco non lo voglio sapere ci ho fatto una figliola la figliola lombarda quando parlavano di separazione dell'italia nord c'è intanto sconfuori con loro balzane ed ecco ci separeranno la famiglia te te richiamano lombardia io sono al di qua del poto al di sopra ciao bambina torni lombardia se sa manco che odore ha la lombardia mia figlia mamma mia che fame che ho la panza che gorgoglia ma voglio prima chiacchierare come voi tanto non lo so mi sono persa con le mie chiacchierare allora che cosa abbiamo davanti abbiamo il mio ranuncolo giallo e la mimosa che abbiamo raccolto ieri sera con minussi dico raccolto perché ero sotto una bella pianta di mimosa al buio ma non era notte sono state le 20 le 8 di sera ecco come diciamo abitualmente ci vediamo le 20 ma chi lo dice come marmellata è tutta marmellata voi dite confettura ho comprato la confettura diciamo tutti marmellata c'è poco da fare no parla per te parlerò per me allora eravamo sotto una bella pianta di mimosa ieri sera abbiamo fatto dei giri larghi perché sono andata a bere un caffettino da una signora che ha frequentato i primi incontri presso un bar e adesso poi chissà che ci incontriamo anche da altre parti lei non cammina volentieri insomma ha un po' di acciacchetti allora però vengo con la macchina ho detto ma vieni con me che andiamo giù a piedi a braccetto piano piano ti fai una passeggiata vabbè vediamo chissà se la convinco insomma è stato un bellissimo caffè che è durato due ore e mezzo io sono arrivata alle 4 e qualcosa e sono tornata a casa alle 7.20 tra una storia e l'altra è stato carino è volato il tempo abbiamo chiacchierato di uncinetto lei è quella signora che al primo incontro al bar al new bar aveva portato le sue cose a crochet belle 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 lei che ha cucito che ha fatto parte insomma ha vissuto un po' il mondo della moda romana ha lavorato in un laboratorio la signora di gran gusto di origine umbre e umbre e friulane tra l'altro io credo guarda tu non hai niente della mediterranea sembri più un po' crocca non ti offendere ma come hai fatto scoperta e si vede carina troppo simpaticissima ha una carina ironica veramente carina deliziosa e abbiamo scoperto cioè lei mi ha confidato di aver avuto la nonna friulana beh eh sì però la mamma non credo sia nata lassù comunque si vede la fisicità snella poi mi ha fatto vedere le foto da ragazza carina poi è simpatica di gran gusto mi ha fatto vedere il vestito indossato per il matrimonio dell'unico figliolo ma che gusto che eleganza poi un bel portamento carina veramente carina simpaticissima allora mi ha fatto vedere che da qua non aveva mai più toccato un cineto perché un po' di problemi con le articolazioni come la capisco io per due giorni non ho toccato ferro perché mi era ripartita l'infiammazione ai pollici e ciao core manco la porta di casa ricevo da aprire perché perché sono stata stupida abbondiato troppi zuccheri troppe cose che non dovevo un pochino un po' lì un po' là e quando mi è stamattina la giovanna va a farmi bere il latte giovanina no il latte no mi fa male la panna il latte proprio non ce l'ha fatto no mi offre no giovanina no va bene il caffè una tazza di caffè che mi sento schizzata come non lo so oggi starò lontana da tutte le caffetterie viterbesi se vado non ho ancora deciso ma credo che non andrò non sono oggi non sono del lì no ci vado un altro giorno oggi no oggi no oggi non mi sei non sono pronta non sono psicologicamente pronta neanche fisicamente sono stanca ma l'oreste mi ha sfiancato stanotte fetentone me lo sono trovato poi anche addosso poi vuole i grattini bello muso dormi dalle zampate i morsi buona parte della notte la trascorsa con noi ma lui gira per tutta casa c'ha mille cucce quella bella grande grande c'è la sotto al mio letto carino i miei animaletti va bene insomma ieri a questo caffè una grande soddisfazione è stata tra l'altro che ornella mi ha fatto vedere dove ornella mi ha fatto vedere le cose che ha fatto si è comprata i ferri è andata a viterbi ma c'è quel posto là sapete che poi lui dà le indicazioni che girano le braccia come se io davanti avessi fosse orientata con una bussola così gira per così poi vai su per cosà non ci ho capito niente ma io sono peggio a dare le indicazioni insomma era partita si era presa ai ferri si è presa degli uncinetti nuovi ne avevo dato uno e si è presa dei filati ma non era contenta ci credo infatti poi affronteremo l'argomento filati è importante è l'argomento più importante quello sui materiali anche quello sugli attrezzi ma sui materiali proprio non farsi trascinare poi gli acquisti e guardare le etichette considerare il costo l'ha speso un botto per quattro euro il costo e poi il valore parte l'estetica ecco vabbè ma ne parliamo manco a dirlo che ne parliamo ne parliamo sempre e contenta mi ha detto che ho fatto una sciarpa alla bimba dei vicini che si è fatta le delle cose non era contenta dei suoi materiali due gomitoni mi erano regalati sono arrivata a casa ieri sera con un pandoro nuovo e due gomitoli in microfibra che non è brutto il colore però lei non se lo vedeva che in effetti non sono tinte per sapete quando vi intortano l'ho compresa però mi sono opposta a due gomitoletti ha preso due gomitoletti in cotone un bel colore interessante un rosso un rosso interessante e sembrava la me quello che spezzava il il tono caldo in realtà invece è attorno un filino molto sottile di un beige lucido una viscosa diciamo sottile che sembrava un po dorata in realtà non è così che la faceva molto natale non sarà così e due gomitoletti piccoli filato non sottilissimo per niente sottile quindi sarà un tricò perché è un tricò perché il tricò rende in maniera diversa rispetto al croce nelle lunghezze e nello spessore cosa che farebbe duro diciamo tra virgolette quel colore e il croce mentre il tricò nella maglia rasata lo ammorbidirà ma non sarà solo una maglia rasata ci saranno anche dei buchini e poi studierò la cosa e e vede dalla prossima settimana ci sarà un po di traffico in questa casa la lavagna oh guardate la mia bella lavagna al muro dipinta sono con una vita che la volevo la volevo anche nella mia bottega nella mia bottega ero decisa fra il lavanda e anzi no il pervinca e il lampone alla fine non l'abbiamo mai fatta perché non c'era il colore ve l'avevo già raccontato tempo fa avevo visto la pubblicità di queste pitture murali 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 pubblicizzata su Marie Claire Idee anzi devo dire mia sorella di regalare di mettermi lì da parte di andare a comprare e dire questo è il regalo per i 60 anni di mia sorella tra pila di Marie Claire arretrati e e e e e ed è presso una catena di negozi che ha distribuito credo in tutta europa mi sa e niente io ero andata mi ha preso per pazza meno male che avevo mai imparato avevo il giornale commetto alle a o alle a o in italia ancora non c'era e invece adesso ne troviamo tanti di questi prodotti che si trasformano in lavagne e carino sono contenta e poi vabbè vi parlerò di come abbiamo realizzato quella cosa beh ma e sì dalla prossima settimana questo vuol dire che mi devo dare una mossa rassettare in giro organizzerò degli incontri anche qua a casa se non farà troppo freddo altrimenti rimaneremo perché io ho la mia stufa a legna nella cucina che è la stanza adiacente solo che non è che riesca proprio a spingere il calore anche da questa parte perché il muro che ci separa dalla cucina è bello spesso che lì c'è un siamo narco proprio e vabbè poi vedremo non mancano i luoghi dove incontrarci ed è una cosa carina tra l'altro incontrarci tutti fuori casa anche se io poi qua ho tutto quello che mi serve per gli incontri e non mi sto a diventare matta a trasportare pesi organizzare sì è sempre impegnativo organizzare gli incontri ci devo pensare mi devo preparare devo preparare i che ne so le schede tecniche voglio preparare i filati non sono dei corsi quindi anche mi metto lì a insegnare a fare le cose gli inni caffè sono dei caffè in realtà in caffè cosa sarebbero degli incontri dove ognuno porta il proprio lavoro punto e si chiacchiera un po di questo un po di quello e si condividono le esperienze però mi piace arricchirlo di qualcosa di più e quindi o è l'argomento che il lavoro che ho tra le mani che mi permette di dare qualche informazione in più utile a tutti che facciano uncinetto o maglia anche perché chi sta frequentando gli incontri diffusi non sono persone che parlano solo una lingua nel senso non fanno solo o solo maglia o solo uncinetto e quindi è bello tenere vivo il gruppo proponendo argomenti che possano arricchire tutti e qua davanti l'esempio allora abbiamo dei dei filati particolari che sono che vanno dall'autorigante che cos'è l'autorigante l'autorigante è un filato tinto in stampa pensato non solo per i calzini ma ci sono anche degli autoriganti pensati per i golf io so di katia che ha presentato non so se l'anno scorso due anni fa insomma è già uscito da qualche tempo un prodotto che utilizzato per la realizzazione di golf con lo splone rotondo seguendo bene la texture e le taglie indicate ecco che una semplice maglia rasata permette di far manifestare il motivo studiato e prestampato sul 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 filato ed ecco che compaiono le grechie insomma quei motivi tipici del sì diciamo ferais per modo di dire dei dei capi nordici ecco tra l'islanda l'irlanda la norvegia anche se la norvegia ha dei motivi diversi un po più che richiedono molte maglie molti giri per manifestarsi e quindi parlerò della differenza che c'è a volte non riusciamo a vederle perché guardiamo di fretta perché non ce le fanno notare abbiamo poca esperienza abbiamo timore certi filati non li guardiamo non sappiamo come impiegarli ci attirano ma ci lasciano anche un po così ci comunicano in certezza ecco più che entusiasmo sento ci sono gli amanti appassionati di certi multicolore ci sono le persone che rimangono un po così e dubbiose allora parlerò di autoriganti quindi si parlerà di maglia di tensione di qualità ecco di qualità la qualità che come riconoscere la qualità la qualità che parte dalla pancia mi piace lo guardo sicuramente è buono o la qualità manifestata da delle caratteristiche certe evidenti quelle che dobbiamo aspettarci da alcuni prodotti che si che cantano una certa canzone soprattutto nelle etichette e soprattutto se ci vengono proposti per determinati manufatti noi dobbiamo aspettarci le qualità le qualità che ci permetteranno di lavorare bene di ottenere certi risultati nell'immediato e nel tempo anche dopo più lavaggi poi ci sono anche i filati che i lavaggi risopportano poco questo vuol dire che è un cattivo prodotto no non necessariamente magari indica alcune peculiarità e lo fanno ancora più prezioso e saranno quei capi se realizzati poi che dovremo tenere da conto che non sono i capi da tutti i giorni noi siamo cresciuti io sono cresciuta diciamo anche i miei fratelli con i vestitini per i vestitini buoni e i vestitini per tutti i giorni il vestito per cambiarsi e il vestito per fare attività all'aperto per andare a scuola per giocare ecco non c'erano i vestiti non erano buoni per tutti per ogni occasione e anche i nostri manufatti non possono essere buoni per tutte le occasioni vuoi per la delicatezza della realizzazione ieri con ornella abbiamo guardato alcune sue realizzazioni passate di quando stava ancora bene di quando ancora aveva il marito vicino insomma ne sente ancora molta la mancanza è venuto a mancare otto anni fa insomma non raccontò le cose sue sono state confidenze belle è stato un momento bello come se fossimo amiche da tanto tempo oppure che ecco un rapporto che si sta coltivando oppure ci siamo viste veramente po' volte ed è stata bella la confidenza l'accoglienza la visita alla casa come si faceva una volta a casa mia dopo ho fatto in questo momento dove sentami qualcuno in casa altro che visita oh se ci vuole per me il dottore te non stai bene se sei così disordinata ma non sono disordinata mi dibingono così mi dibingono e mi ha fatto vedere torniamo ad ornella un paio di scialli e poi mi ha raccontato della mamma tante cose belle e me ne ha fatto vedere uno che è stato insegnato da una una vicina di casa non mi ricordo se è romena o ucraina perché abbiamo parlato di varie badanti e di varie vicine di casa che si sono alternate nel tempo e che le ha insegnato appunto questa signora a realizzare uno scialle a forcella con un motivo particolare allora il filato sottilissimo una precisione di esecuzione perché il filato a forcella il filato scusatemi il pizza forcella non è semplice chiede un rigore un'intelligenza nelle mani è notevole soprattutto se si utilizzano certi filati quel filato sottile quello scialle era una roba guardate una delicatezza un'eleganza il nero io non amo il nero non amo gli scialli neri mi ha fatto vedere due capi neri eppure belli 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 questo il primo uno scialle rettangolare meraviglioso veramente ben tenuto ben conservato in una confezione mai vista interessante che pure Ornella non si ricordava come le fosse arrivata a casa l'altro era un granny con un bel pizzo intorno Ornella ha amato tantissimo l'uncinetto io credo più che la maglia perché mi ha fatto vedere delle sue tovagliette delle sue cosine del corredo i centri che ha per casa delle cose fatte proprio bene anche semplici semplici soprattutto i centri che aveva nella sua stanza eppure di gran gusto perché non serve fare delle cose complicate addondanti insomma ben fatte deliziose veramente tutti i merlettini un gusto nell'abbinare il merletto ad un tessuto comprato un oggetto comprato al mercato dell'usato mi ha detto ma guarda che era nuovo ci credo perché anche io trovo tutte le cose proprio belle che lei ha voluto reinterpretare così abbellire agghindare con questo merletto a crochet poi uncinetti piccoli lei ha preso un 4 un 5 che le sembravano enormi ho già pensato ai 20 ecco è stato proprio un bel pomeriggio ho visto le foto di matrimonio del figlio ho visto tante cose abbiamo condiviso delle chiacchiere poi anche soprattutto sui filati sull'acquisto fatto a Deprescia insomma non mi vedo con quel colore è stata generosa ma l'ha voluto regalare fai qualcosa a un maschietto ma tu guarda che questo colore qua abbina anche alle ragazze ma fai quello che vuoi e vabbè baratteremo le cercherò qualcosa che la potrà la potrà stimolare le potrà far mantenere la voglia di fare con le mani e che lei poi si mette lì e produce perché ha lavorato ha lavorato nel realizzare cose belle a mano nella sartoria dove lei ha un po' di più di una sartoria quindi lei ha iniziato a fare queste presine dopo gli incontri che erano anni anni che non faceva più niente e le ha fatte una cassettata piena precise belle eleganti ben combinati colori è brava tutto è carino stirato è bello è stato proprio divertente quindi vediamo se riuscirò a coinvolgere anche lei nella prossima avventura in giro per i paesi i paesi e parleremo proprio di questo degli stampati i filati stampati i filati per calzini i filati che nascono per certi manufatti determinati manufatti come questo ecco toccare i filati perché qua abbiamo ora abbasso ecco qui che cosa abbiamo abbiamo questo che tanto che non lo guardo più povero ciccio che sarà uno scialle vorrà essere doveva essere sarà uno scialle da divano poi vi rispiego che cosa intendo per scialli da divano ecco qua il suo filato che è un filato della AS Garn che mi è stato regalato un tempo fa eccolo qui ha un'etichetta che non è molto leggibile è un adesivo posto sopra in italiano più o meno eccolo qua che è sono 400 metri e sono 75% merino e 25% poliammide nascono per calzini perché per la torsione per l'aggiunta della poliammide che pare che senza quella non si possano fare calzini ecco lo paragoneremo questo bel filato che mi piace un sacco che io ho destinato invece che calzini a questo scialle a questo capo vi ho abbinato insieme una pura seta vedete la quella rocca sottilissima non svilisce non si sviliscono si sostengono entrambi ovviamente e dico ovviamente per un motivo ecco sto lavorando con una mano lasca ma controllata e che mette tra l'altro in evidenza i tratti brevi di questa tintura in stampa questi filati sembrano uguali ma non hanno non sono per niente uguali vabbè che differenza c'è una bella differenza e poi la potremo anche vedere con dei campioni fatti successivamente agli incontri questa ecco è la stessa lana dico lana perché è solo lana non è un misto 100% lana di tropical lane tinto a mano come questo quando dico tinto a mano vuol dire tinto a mano non botanicamente quindi con varie soluzioni diverse insomma di pigmenti per il tessile che si possono utilizzare artigianalmente quindi autonomamente non in spazi particolari con attrezzature particolari diciamo ecco parlerò di queste di queste tipologie di filato così come qui abbiamo un altro tinto in stampa questo è un filato bellissimo di acquistato parecchi mesi fa da mani in maglia questa è la sua etichetta il Maryland 7500 che è un 100% merino sono 750 metri per 100 grammi il cono che ho scelto è da 100 grammi e l'ho abbinato ad un altro filato incantevole dice poi quando parleremo dei moher e degli alpaca brush ne parlerò in contemporanea perché dovremo fare delle comparazioni visive e tattili vedere il risultato dei filati ai lavorati ecco anche questo è un filato mani in maglia eccolo qua il baby soft 50 grammi portano la metà di 950 perché abbiamo questo è un piccolino era un preconfezionato noi possiamo chiedere a mani in maglia di roccarci perché loro vendono solo rocche multipli da 100 grammi questo invece c'è anche la possibilità di fare degli assaggi loro hanno dei coni dove supportano quantità spesso inferiore ai 100 grammi e si può fare esperienza si possono creare progetti o adattare a progetti multicolor divertirsi ecco assaggiando più qualità e quindi contenendo anche la spesa abbiamo un budget da 50 euro ecco che ce lo possiamo spalmare nell'acquisto di filati diversi e fare esperienza questo è il colore borgogna 70% alpaca baby 30% poliammide e questo cono era da 50 grammi quindi io qui ho la metà di 950 quanto fa 450 alla metà di 900 quindi 475 metri sto realizzando anche qui uno scialle da divano mi sono persa il pattern in giro per casa dovrò ritrovare il mio pattern stampato da qualche parte e porterò anche lui come esempio quindi vedremo come i movimenti del filo con il crochet ed il tricot ci permettono di migliorare texture di godere in maniera differente degli effetti cromatici dei filati e avremo intanto solo queste qualità quindi filati sempre ben ritorti abbinati poi a o kid silk o alpaca brushed o come avete visto qua o in questo caso a sinistra con la seta e parleremo di maglia e di uncinetto quindi i primi incontri saranno tattili poi farò negli incontri dopo quindi la parte pratica sarà allora le persone si alterneranno nell'utilizzare questi filati nei miei manufatti mi dispiace non se lo potranno portare a casa ma potranno ecco lì tanto sono cose mie non importa se mi cambia la mano bisogna avere molta attenzione perché non sono facili da sbrogliare poi non si può tornare indietro quindi ci vorrà concentrazione poi ci saranno degli assaggini di filati diversi che saranno poi portati a casa e ognuno potrà sul momento e poi a casa fare esercizio fare memoria prepararsi la scheda tecnica e memorizzare quanto ascoltato è una cosa bella andare a casa con le dispense che poi nessuno guarda e spesso poi si dimenticano tante cose e invece consiglio cerco di far prendere sul posto degli appunti perché quando si prende un appunto si ragiona sulle cose sui contenuti ascoltati e ognuno poi si esprime al meglio e si potrà comprendere e ricordare allora poi che cosa abbiamo sul tavolo mi ero dimenticata di dirvi ieri eccola vedete questa quella rivista di Impettaia ecco quella è una rivista veramente datata insomma non 800 anni ma non è uscita da poco ecco anche lì farà parte della chiacchiera di una delle chiacchiere guardare alle riviste immaginare altro vedere dei progetti immaginarli diversi e infatti io da quella rivista ho preso lo schema per realizzare questo scialle da divano mi è piaciuto tantissimo l'ho visto proprio adatto a questo filato e non sono facili questi filati non è che possiamo prendere un filato multicollo e poi si rischia di rimanere delusi perché magari il filato non mette in evidenza la lavorazione e dici perché hai fatto tanta fatica e poi risultato da lontano manco si vede manco da vicino ecco ragionare sulle tipologie diverse dei filati mi hanno regalato della nana calzini ma i calzini non li faccio beh bene guardiamolo e facciamoci altro ad esempio oppure voglio fare calzini ma non voglio spendere una cifra voglio fare calzini e mi sono innamorata di questo filato voglio fare calzini e come li faccio i calzini che calzini abbiamo il testo abbiamo 52 settimane di calzini che ci aiuterà nel comprendere nel guardare nell'osservare quali filati sono stati utilizzati senza andare a vedere a leggere le fascette le marche guardando le immagini osservando come si comportano i filati e pensando a quello che abbiamo a casa ecco così non ci lasciamo confondere da altre notizie guardare le foto con attenzione allora vi avevo già parlato di Tiglio nel video precedente Tiglio è questo filato di Made in Italy che ho scovato in una merceria nella merceria di Piano Scarano che è l'altro quartiere medievale e ne abbiamo due a Viterbo di quartieri medievali sono diversi ma proprio diversi e sono di rimpettai sono separati da un fosso nel fosso c'è di tutto nel senso è abitato quel suo fossetto ci sono delle casette ci sono dei locali che vanno un po' scimando ci sono le casette io amo Viterbo ma più la vedo più mi piace e peccato che è un po' così abbiamo delle vie non sempre tenute benissimo allora avevo fatto questo incontro in merceria con Grazia che è una persona sta diventando una cara amica di Maglia dove chiacchieriamo proprio bene quando ci incontriamo di filati di tecniche di tante cose e siamo andate a visitare sollecitate poi da un'altra amica di Nick Cafè ad andare a fare visita a questa merceria che io avevo conosciuto anni fa lei ha scovato un filato che io non conoscevo e che mi è piaciuto molto mi pare si chiami Catania un cotone interessante e abbiamo buttato l'occhio su questo filato siamo un po' tignette tutte e due cerchiamo i bei filati i buoni filati più naturali possibile e questo filato in etichetta dice di essere composto da 85% lana merino e 15% microfibra che dovrebbe prevenire il pilling il pallino a me è piaciuto perché perché è opaca perché è cangiante perché è melangiata ha una mano che mi interessa e cerco e cerco insomma ho una serie di calzini che voglio fare semplici calzini da casa sono quelli che mi piacciono di più e anche vedere come realizzare imparare a fare calzini e impegnarsi in costruzioni anche un po' complicate con filati che non ci fanno patire che non ci impegnano un sacco di soldi ecco fatta la mano ho capito il nostro gusto messo a punto insomma il nostro ardire siamo abbastanza coraggiosi sì ci lanciamo allora nelle realizzazioni complesse di calzini oppure anche no ecco e lo facciamo facciamo e disfiamo con un filato che ecco ci dà un po' retta e che se ci rimane ecco il calzino che realizzeremo avrà comunque un suo perché sarà performante questo filato secondo me sì anche se non l'ho ancora elaborato perché lo dici perché vedo la tensione l'ho toccato e ciancicato vedo come si comporta già nel gomito lo farò vedere come si comportano gomittoli dove non viene dichiarata ad esempio la natura della fibra tipo riciclata e ci sono dei riciclati che si fanno proprio si vedono che lo sono e possono anche deludere un poco quindi se li abbiamo in casa come li possiamo impiegare per non buttare poi il nostro lavoro il nostro tempo tempo poco ecco anche quello sono argomenti da da nick caffè questi quindi imparare a guardare ad acquistare abbiamo fatto un progetto al volo con grazie ci siamo divertite un sacco io ho preso un solo mi piaceva tantissimo il du voi lo vedete sparato purtroppo ma non è così anche il colore sotto lo vedete sparato no purtroppo è una questione di luce e ho preso un gomitolo solo ho fatto la virtuosa ho tenuto le mani ferme perché è un esercizio anche quello costa solo due euro questo gomitolo da 50 grammi ha un bel metraggio e sono 125 metri per fare dei calzini abbastanza lunghetti ne servirebbero almeno due della taglia mia di camilla ma io in realtà ricordavo di avere questo il bellone e a distanza non lo avevo con me mi pareva che i due blu potessero combinare sono due filati diversi uno è un bel ritorto bello elastico e l'altro elastico nel senso che è nato dalla torsione e dalla qualità delle fibre l'altro invece è uno stoppino è una lana alpaca e un po' di poliammide mi è piaciuto l'ho già utilizzato per dei calzini da bambini e quindi cosa ho pensato destino il gomitolo per la realizzazione del piede poi alternerò i due filati nella gamba e poi deciderò dove terminarlo partirò dalla punta in questo caso anche se io non amo partire dalla punta un po' come il top down se per i calzini preferisco partire dalla gamba quindi dall'alto e scendere verso il piede nella maglieria da indossare golf gilet io non amo il top down mi sento ribaltata solo i poncioli li realizzo dall'alto oppure mi dedico al top down quando ho poco filato e devo gestirmi la vestibilità e destinare alle parti lontane diciamo altri filati è già capitato poi ritorneremo sull'argomento altrimenti io preferisco la maglia a pezzi a teli e cucirla e comunque partire dal bordo verso l'alto sono cresciuta così la maglia per noi era fatta così anche se mi sto appassionando diciamo alle costruzioni dall'alto per bambini Camilla poi ha già fatto delle richieste è la mia bambina anche se è grande quindi mamma le farà un altro golfino top down e quindi partirò dalla punta e gestirò poi man mano quindi deciderò come lavorare questo calzino con qualche motivo nella gamba quando vedrò come si comporteranno insieme probabilmente sicuramente ecco questo lo metterò doppio lo lavorerò doppio e vedrò che aspetto dare a questo calzino questo è un esercizio fare acquisti pensando considerando moderandosi perché poi le nostre riserve aure le potremo destinare anche ad altro o di nuovo allo stesso tipo di prodotto in altri colori infatti me ne sto per prenotare un paio anzi tre sono che mi sono piaciuti che sono piaciuti a Camilla e diventeranno calzini per Camilla e per Federica la nostra fefe di casa devo fare dei calzini a mio fratello ancora non ho deciso per i suoi 50 anni però volevo farglieli con la Camilla insomma mo decido poi vediamo ecco qua come vi ho anticipato gli argomenti vi dirò le date se qualcuno vorrà aggregarsi probabilmente sarà un sabato mattina vediamo insomma di combinare un giorno dove almeno le certe ecco potranno partecipare poi mi auguro che qualcun altro da Roma o da dintorno insomma approfittando anche che Viterbo è sempre bella abbiamo un sacco di cose belle da vedere a pochi chilometri di distanza tra loro ecco aggiungere insomma questa nostra meta vostra per poi condividere un po' di tempo della vostra vacanza a far qualcosa insieme o a parlare insieme di filati va bene stiamo stabilendo una data per un incontro da una giornata in La Spezia presso il laboratorio di mia sorella Laura e mia nipote Chiara il nido tessile l'argomento sarà i filati ci saranno anche dei piccoli campioncini di punti parleremo di filati per bebè e di filati per noi adulti visto che il nido tessile ha adottato una bella filosofia riguardo alla natura dei materiali che utilizzano per la realizzazione di varie cose per bambini ecco noi manterremo proprio quella loro sosteremo quella filosofia quindi parleremo di una certa tipologia di filato che dovrà andare bene un po' per tutti quindi che sarà bello per il crochet che sarà bello per la maglia che sarà bello anche nella tessitura per adulti e per bambini parleremo di piccole cose ma soprattutto lì si parla si parlerà di qualità di filati e tipologie a presto tutto saprete tutto che ho una primavera caliente di cose da fare pensare lettera bacio e testamento vabbè sì meglio fanno due righe lasciate quella se stanno andando a vita destinate qualcosa i libri a sorella i vestiti sempre di queste cose è meglio ricordarselo allora ma basta non ho altro da dirvi vi saluto e vado a prepararmi il pranzo se è oscurata la vallata il sole illumina la neve sull'appennino il cielo è basso e cupo io oggi sto a casa ciao